la velocità per me è libertà la ricerco sempre quando riesco a essere in piena sincronia con lei mi sento veramente libera e anzi a me piace creare la velocità sugli sci è tutto ciò che conta i limiti esistono devi cercare di avveccinarti però non devi mai superare io molte volte nella mia carriera ho superato il limite la pressione non esiste la pressione esiste solo nel momento in cui tu ti deconcentri da quelle cose essenziali che servono a te in quell'istante per raggiungere i tuoi scopi a me piace molto allenarmi a volte devo quasi frenarmi perché la mia indole mi porta ad andare quasi oltre mi allenerei sempre però la realtà che anche il riposo fa parte dell'allenamento un centesimo di secondo può fare la differenza le sfumature nello sci sono tantissime e così anche tutti i dettagli che vanno curati durante la preparazione atletica una parte fondamentale su cui punto molto un'alimentazione sana ed equilibrata su questo presupposto fondamentale cerco di integrare con i prodotti enerbit quando necessario se io non avessi avuto questo brutto caratteraccio non probabilmente non sarei arrivata dove sono arrivata oggi enerbit prima durante dopo lo sport